La battaglia dei comitati cittadini contro l'installazione del monumento al vento di Denicaravan riprende da dove era cominciata. Appoggio Castiglioni, la vetta della Calvana, dove il comune vorrebbe sistemare, spendendo 500.000 euro, la contestatissima opera contemporanea, alta 36 metri. Stamani i rappresentanti dei comitati e delle associazioni contrarie al progetto si sono ritrovati in questo angolo panoramico di Prato per lanciare una nuova sfida al sindaco Ceni, che non li ha voluti incontrare per la consegna della petizione sottoscritta da 2.700 persone, né ha dato il proprio assenso ad un incontro pubblico sul tema, nonostante i comitati fossero disponibili a sostenere le spese per la serata. I comitati cittadini ripartono da qui e annunciano un approccio più politico alla battaglia contro il monumento al vento e più propositivo sul fronte dell'arte contemporanea pratese, che secondo loro è al momento poco partecipativa e in mano ad un'elite. Ma ci chiediamo, queste espressioni che vengono propagandate come arte contemporanea, ma sono veramente espressioni condivise, partecipate dai cittadini? Ma l'arte contemporanea a Prato è veramente la torre al vento, è veramente l'attività che svolge il Pecci attraverso la sua gestione? Noi abbiamo dei dubbi, abbiamo delle perplessità e crediamo che Prato possa esprimere un'attività di arte contemporanea molto più partecipata, molto più coinvolgente nei confronti dei cittadini, che non iniziative che vanno a deturpare il paesaggio come questa torre. Grazie! Grazie!